Teramo, città universitaria, chiama a raccolta il mondo della cultura, della scienza e della ricerca per marciare in favore della pace in Ucraina. Sabato 26 marzo, in città, migliaia di cittadini consapevoli sfileranno contro tutte le guerre. Un'iniziativa regionale, voluta dall'Università di Teramo, che è riuscita a coinvolgere, oltre agli altri atenei abruzzesi, anche quelli delle Marche e dell'Umbria. Al fianco del Rettore Mastrocola ci saranno poi le istituzioni, come il Comune di Teramo, l'Istituto Zooprofilattico, il Gansasso Science Institute e il Conservatorio Musicale Braga. Insieme, in una marcia che vuole ribadire come la scienza e la cultura siano punti per la pace. A Teramo si svilupperà qualcosa che ha una rilevanza nazionale e internazionale. Una marcia per la pace dedicata alla cultura, al ruolo che la cultura ha e deve avere per la pace, che a mio avviso, a nostro avviso, non può che essere l'unica strada. Cultura e formazione portano ad avere cittadini consapevoli che non possono non impegnarsi per la pace. L'ignoranza e la sopraffazione ovviamente sono sempre l'anticamera di disastri tipo la guerra. Quindi sarà una marcia, ci sarà un momento culturale, quindi saranno tre o quattro lezioni in pillole. Questo momento culturale di colleghi verrà chiuso da due colleghe, una docente ucraina e una docente russa, che collaborano nella dimostrazione che ancora una volta la cultura unisce e la politica e le strategie possono dividere. E a proposito di strada per la pace, il percorso della sfilata di sabato 26 marzo avrà come punto d'incontro Piazza Garibaldi. L'orario è previsto per le 9.30, da lì si raggiungerà il campus universitario di Coste Sant'Agostino e all'arrivo, ad aspettare i partecipanti, ci saranno due docenti che terranno micro lezioni di storia e geopolitica, perché cultura e pacifismo vanno di pari passo.